Alla Spess faccio la parte della commessa, quindi mi occupo del servizio delle paste, del cioccolato e di stare in sala e comunque servire ai clienti in ciò che richiedono. Io provengo dall'Engine, che è un centro formazione professionale che è legato anche alla Spess, si impara tutta la parte di raccontare il prodotto, di parlare agli altri del prodotto che produciamo qui nel nostro locale e rivendiamo quindi raccontare anche un po' la storia dei nostri prodotti e poi ho imparato ad avere un rapporto diverso con i clienti, a offrire loro comunque anche un sorriso. Grazie